buonasera scusate se rido ma questa è tipo la quarta volta che cerco di fare un video stasera ma i motorini fuori e cane cabaia va giù e alla fine ho iniziato a parlare e poi mi sono dimenticata di registrare per cui rifacciamo tutto da capo buonasera a tutti forse ce la faccio questa sera è un post dedicato al rosmarino non è un caso secondo me che è la tipo la quarta volta che cerco di fare un post sul rosmarino questa sera il rosmarino risveglia il fuoco risveglia tutto quello che c'è da sistemare per cui non è un caso che io la quarta volta che cerco di fare stasera un post sul rosmarino vediamo se stasera se questa è la volta buona che riesco a farlo mettendo in mano un pezzettino perché mi aiuterà perché parlare del rosmarino è difficile un pochino come il post che ho fatto sulla rosa poi qui sotto lascerò tutte le indicazioni però ecco tenere in mano un ramoscello di rosmarino e toccarlo un pochino e annusarlo diciamo che aiuta a stimolare la memoria per cui io mi sono presa qui davanti a me trovate qualche post it c'è qualche post it con le cose che vorrei dire stasera e vedo se riesco appunto a dirle tutte il rosmarino diciamo che aiuta a stimolare la memoria per cui mi faccio guidare da lui stasera e vediamo cosa cosa salta fuori da questo post in generale il video che vorrei fare è dare due tre informazioni a livello di storia e a livello esoterico per poi passare a livello di aromocologia e poi andare su quelle che sono le sue proprietà fisiche già da questo capite che il rosmarino è una pianta che da tantissimo da tantissimo a livello sia magico che di aromocologia quindi a livello di psiche che anche appunto a livello a livello fisico è una pianta sacra considerata sacra fin dai tempi degli egizi gli egiziani la utilizzavano per imbalsamare i corpi c'è un senso logico perché il suo olio essenziale è un olio essenziale molto potente che aiuta proprio a conservare a disinfettare e qui faccio una piccola parentesi così poi non ci ritorno dopo perché ho tante cose da dire spero che non sia un video lunghissimo visto che appunto già gli egiziani la utilizzavano per imbalsamare su questa tradizione diciamo su questa scia nel medioevo veniva utilizzata dei medici della peste quindi nel becco che vedete nelle fotografie dei medici della peste del medioevo all'interno ci pigiavano dentro piante con delle proprietà antibatteriche molto potenti uno delle piante principe era appunto il rosmarino che poi era anche uno degli ingredienti dell'aceto dei quattro ladri ne ho parlato in un altro in un altro video che era costituito da principalmente rosmarino all'oro assenzio e altre piante molto antisettiche che i ladri teoricamente durante la peste del 1600 creavano diciamo creavano quest'olio se lo spalmavano addosso e poi riuscivano ad entrare indissorbati nelle case degli appestati per rubare senza essere contagiati questo è un piccolo escursus diciamo che è una pianta appunto come dicevamo prima che è conoscita già sia dai tempi degli egiziani oltre ad essere utilizzata a livello fisico per poter imbalsamare i corpi perché è un effetto molto conservante per cui se utilizzate o se siete soliti diciamo creare dei cosmetici a casa per conto vostro una goccia diciamo di olio essenziale di rosmarino che trovate in vendita tranquillamente vi aiuta proprio a conservare quella conservante naturale quindi veniva utilizzato dagli egiziani per conservare i corpi per imbalsamarli allo stesso tempo veniva posta diciamo nelle mani dei defunti perché si pensava che potesse aiutare diciamo nel passaggio nell'aldilà e da dare come omaggio alle creature e alle energie diciamo che erano sulle soglie per cui il rosmarino aiuta anche nei passaggi nell'aldilà la cosa curiosa è che questa cosa veniva veniva fatta sia dagli egiziani quindi gli egiziani erano soliti mettere nelle mani dei defunti nelle tombe diciamo un ramuscello di rosmarino proprio per come dono e per aiutare nel passaggio dell'aldilà non si sa come però è la cosa bella del mondo che appunto è tutto un attimino connesso nelle tradizioni del nord e quindi nelle tradizioni scandinave dei druidi e quindi anche più nel nord Europa alto anche in quel caso si utilizzava come tradizione mettere nelle mani dei defunti una piantina o un ramuscello di rosmarino perché questo appunto aiutava nel passaggio dell'aldilà secondo i greci questa pianta era chiamata e qui me lo sono scritto perché è difficilissimo da pronunciare spero di pronunciarlo giusto maccairintes che è una parola che deriva dall'etimologia della parola beato per cui chi conosceva le proprietà del rosmarino letteralmente era beato per due motivi uno perché il rosmarino favorisce le proprietà di ringiovanimento del corpo stimolando comunque sia il fuoco digestivo e qui ci ricolleghiamo alla ayurveda chi ha un fuoco digestivo un pitta equilibrato vive più a lungo secondo la ayurveda questo poi dopo è un argomento che magari approfondiremo in un altro in un altro post però appunto beato e maccairintos è beato beato che conosceva le proprietà del rosmarino secondo i greci era legato al culto di zoroastro e anche prima dei greci in realtà comunque legato al culto di zoroastro legato al culto del sole il rosmarino è una pianta solare è una pianta solare maschile ma non per forza solamente maschile ma diciamo che aiuta la parte del cervello che elabora meglio i pensieri per cui è legata al sole è una pianta che serve quando ci sentiamo a terra quando siamo un po troppo lunari letteralmente quando andiamo un attimino nel buio e nel blu il rosmarino risveglia il nostro fuoco il nostro fuoco in interiore per cui legata a zoroastro legata al culto del sole è questo già di suo spiega in aromaterapia le sue funzioni per cui c'è va a ristimolare il fuoco interiore va a ristimolare la digestione dopo vediamo meglio le proprietà a livello fisico però a livello di aromaterapia diciamo che va a ristimolare la digestione degli eventi della vita diciamo di quello che ci che ci capita passando dai greci andando nel mondo latino secondo due tradizioni differenti la sua parola cioè la parola rosmarino deriva dal latino che significa ros mare ossia o secondo la prima tradizione ruggiata del mare perché i suoi fiori di questo blu profondo ricordano proprio il profumo e i colori dell'oceano il rosmarino cresce spesso vicino al mare ma non solo ovviamente ma deve avere diciamo delle condizioni climatiche particolari legate molto al sole che ne aiutano appunto lo sviluppo parentesi nelle erbisterie se andate a cercare l'olio essenziale di rosmarino nelle erbisterie che si intendono un pochino di oli essenziali non troverete mai solamente un tipo di rosmarino questo perché perché ci sono vari tipi di oli essenziali di rosmarino legati al posto dove crescono perché il clima la terra l'altitudine alla quale cresce il rosmarino ne modificano proprio la composizione chimica a livello di oli essenziale per cui riuscire in un'erburisteria un pochino sul pezzo diciamo a livello di oli essenziali potete trovare il rosmarino verbenone i borneone il cineolo i saturoioide eccetera 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 diciamo che questa sera parliamo del rosmarino in generale per cui del rosmarino officinalis i borneone il cineolo come oli essenziali di rosmarino sono i due più più conosciuti dicevamo appunto rosmaris quindi rugiata del mare secondo la prima tradizione oppure ramoscello perché secondo alcuni latinisti ros non significa rugiata ma significa ramoscello comunque ramoscello del mare in ogni caso legato comunque sia al mare ma al mare in tempesta cioè al mare che ha voglia di risvegliare di rifar rinascere quello che dentro di noi è sopito per cui ricollegandoci da questo a livello di aromacologia l'olio essenziale di rosmarino è un olio essenziale che serve a risvegliare è di aiuto alle persone che sono stanche alle persone asteniche alle persone che non ce la fanno veramente più e diciamo che dopo tutto quello che abbiamo passato io non vorrei fare proprio la citazione sul coronavirus ma ormai l'ho fatta diciamo che dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi mesi l'olio essenziale di rosmarino ci può aiutare per cui se ci sono delle persone stanche che a livello fisico l'hanno vissuta direttamente o a livello psichico non l'hanno vissuta direttamente ma l'hanno comunque accusata come situazione perché è stata una situazione abbastanza pesante per tutti l'olio essenziale di rosmarino aiuta non solo l'olio essenziale per cui non è necessario che voi gli compriate diciamo l'olio essenziale ma anche solamente tenere una boccettina di olio essenziale di rosmarino o comunque scusate scusatemi anche solamente una piantina di rosmarino in casa o se avete la fortuna di vivere in un luogo dove c'è del rosmarino puro ogni tanto la mattina andate lì proprio a strusciarvi le mani e andranno usarlo perché il rosmarino vi aiuta vi dà quella sprint in più quella carica in più che vi serve per affrontare la giornata per cui o hanno usato un pochino di rosmarino se avete una piantina fuori casa o ne prendete qualche pezzettino se lo comprate lo masticate direttamente la mattina perché aiuta proprio a risvegliare il fuoco interiore o prendete un qualche goccina di olio essenziale di rosmarino e l'aggiungete nel doccia schiuma insieme alla spugna diciamo che utilizzate per fare una doccia la mattina questo vi aiuta proprio a ritrovare il fuoco interiore per affrontare meglio la giornata a livello di aromocologia l'olio essenziale di rosmarino va proprio a ristimolare il fuoco interiore va aiutare a ricentrare a ritrovare la nostra identità per cui ci aiuta tantissimo quando viviamo delle situazioni difficili e rischiamo di perdere la nostra identità per cui rischiamo di dare troppo agli altri perdendo il nostro fuoco interiore perdendo la nostra energia le persone empatiche tendono a farlo spesso per le persone che sono empatiche il rosmarino aiuta molto perché ti aiuta a ritrovare te stesso a dare agli altri senza però essere diciamo vampirizzato dalle energie in questo caso si associa appunto molto bene al fiore di back walnut che è un fiore che aiuta proprio a proteggere se stessi quindi a riuscire a dare agli altri senza essere appunto vampirizzati diciamo diciamo così non per colpa degli altri ma proprio perché magari c'è dando troppo si rischia poi di non avere abbastanza si perdono le energie per cui la fine non si riesce più a dare agli altri per cui cioè il rosmarino aiuta le persone che sono consulenti medici infermieri persone che comunque sia lavorano a contatto con pubblico chi da tanto agli altri e lo fa veramente con piacere ogni tanto però rischia di essere esaurito in questo caso il rosmarino aiuta una parentesi ovviamente non bisogna utilizzarlo se c'è un eccesso di fuoco nel corpo per cui se uno è già arrabbiato si soffre di gastrite se ha problematiche di rossori e ripsoria sulla pelle in quel caso lì significa che c'è già un eccesso per cui il rosmarino è controindicato controindicato ovviamente anche in gravidanza perché in quel caso lì non si dà niente perché la gravidanza è sacra per cui ci pensa già all'universo diciamo e non c'è bisogno di dare nient'altro però diciamo che per tutte le persone che sono particolarmente stanche e hanno bisogno di quel qui di in più la natura ci viene in aiuto con il rosmarino a livello di psiche appunto le ultime due o tre cose da dire che è che appunto stimola il fuoco interiore questo significa che aiuta proprio a chiarire le idee ora gli antichi già lo sapevano da secoli adesso sono stati fatti centomila studi in in merito è buona cosa citarli però al di là di citar il discorso dell'oxford study eccetera eccetera diciamo che anche se ora ci sono centomila studi come dimostrano già gli antichi lo sapevano il rosmarino va a lavorare molto sulla mente per cui per le persone troppo mentali troppo agitate che pensano troppo non va bene per le persone che però non riescono a centrare il proprio obiettivo quello che devono dire seriamente da un'altra persona quelli che sono proprio i sogni e gli obiettivi il rosmarino può aiutare molto perché va a lavorare proprio sulla mente ricentrandola è un principio maschile è un principio solare va benissimo anche per le donne per cui noi sapete che abbiamo tutti e due i lati sia il maschile che il femminile all'interno di noi quando il femminile prende un pochino il sopravvento e non si riesce un attimino a riorganizzare le idee perché mi dispiace dirlo per gli uomini ma si sa che le donne comunque sia sono un attimino più avanti con la mente per cui hanno la capacità di pensare a centomila cose differenti contemporaneamente il rosmarino riporta un attimino sulla parte maschile che significa la parte più materiale per cui aiuta tantissimo a ricentrare proprio le idee a parlare in modo chiaro con le persone se dovete fare un discorso in pubblico se dovete parlare tanto con delle persone va benissimo ad usare l'olio essenziale di rosmarino ma anche prendere proprio adesso io non lo faccio qui perché altrimenti non riesco più a parlare prendere proprio uno due foglioline spezzettarle e masticarle prima di parlare in pubblico questo aiuta perché stimola fuoco interiore stimola la memoria per cui qui ci sono proprio degli studi che lo dimostrano chi studia in ambienti dove c'è l'olio essenziale di rosmarino magari associato alla menta ha degli ottimi risultati rispetto a chi non lo fa e qui ci sono appunto studi scientifici ma ripeto gli antichi già già lo sapevano comunque ci aiuta a ritrovare e ricentrare i nostri pensieri e le nostre idee se dovete parlare seriamente con qualcuno e magari non avete il coraggio di farlo non riuscite a trovare le parole giuste non riuscite a centrarvi in voi stessi per cui avete paura di essere un attimino sopraffatti dagli venti il rosmarino vi aiuta aiuta tantissimo in quel caso lì appunto come dicevo ne basta non usare un pochino e io lo sto distruggendo questa sera ma mi sta aiutando proprio tanto il suo olio essenziale il suo aroma vi aiuta proprio a ritrovare voi stessi per cui è un olio essenziale che aiuta tantissimo a ricentrarsi in se stessi quando c'è un discorso di perdita di centro in generale per cui quando sentite che ogni tanto rischiate diciamo di essere travolti dagli venti o di essere travolti dalle altre persone o di avere troppe responsabilità il rosmarino vi può aiutare il rosmarino vi aiuta anche ad eliminare i sensi di colpa per cui cioè usare un pochino di rosmarino vi aiuta a risvegliare il fuoco interiore come dicevo prima senza diciamo dare cioè dando tanto agli altri senza che venga tolta la propria energia e qui ci colleghiamo a livello fisico a livello fisico il rosmarino è conosciutissimo come spezia diciamo come pianta da mettere nelle nei nei piatti per aiutare la digestione e qui c'è un senso logico aiuta proprio la digestione aiuta a digerire gli eventi serve tantissimo alle persone che hanno una digestione lenta per cui se avete una digestione lenta e quindi vi sentite appesantiti dopo aver mangiato con magari aerofagia quindi un pochino di gonfiore un pochino di flotulenza scusami se lo dico ma fa parte del fisico il rosmarino può aiutare tanto sia appunto in pianta che non l'essenziale ma si trova anche proprio in macerato il macerato di rosmarino si usa in gocce è perfetto per aiutare la digestione specialmente quando ci sono appunto problematiche di gonfiori flatulenza e magari con un fegato un pochino rallentato per cui aiuta molto a livello ipatico sia il macerato che si prende in gocce con un pochino di acqua appunto da bere prima e dopo i pasti sia il l'olio essenziale appunto sempre diluito massaggiato direttamente sulla zona del fegato se un fegato è un pochino rallentato l'olio essenziale di rosmarino aiuta tantissimo va da sé che non va utilizzato ma in gravidanza perché non ce n'è bisogno perché chi è in gravidanza ha un canale aperto direttamente con il superiore diciamo per cui non ha bisogno veramente di niente per questo oltre a livello fisico non si dà di solito niente in gravidanza perché mamma e bambino con l'universo poi ci pensano in generale diciamo che appunto un'altra contraindicazione non bisogna darlo alle persone che hanno un fegato steatoso e quindi significa che un fegato che è veramente affaticato se il fegato è lento in generale va benissimo perché aiuta a ristimolare se il fegato proprio in quel momento non ce la fa e lì si consiglia sempre ovviamente di fare un esame e quindi di mettersi nelle mani di un medico ma se il fegato è veramente stanco in questo caso non si dà perché ristimolare troppo il fegato quando il fegato invece è stanco ha bisogno di riposo non va bene quindi questo è una regola diciamo generale se il fegato è un pochino rallentato va benissimo se il fegato invece è steatoso quindi ci sono problematiche ma lì appunto vi ripeto andate sempre comunque sia a fare degli esami e mettetevi sotto lo vostro medico di base lo vostro medico di fiducia in questo caso non si dà però tornando a quello che dicevamo prima se il fegato è un pochino lento per cui se c'è un pochino di gonfiore dopo mangiato se c'è un pochino di fratulenza se l'alito magari quando vi svegliate la mattina non è che sia al massimo il rosmarino può aiutare molto e in questo caso va benissimo appunto o il macerato come dicevamo prima o l'olio istanziale sempre diluito a usare anche una piantina metterlo comunque sia nelle ricette che fate durante il giorno durante le giornate diciamo che il rosmarino è una pianta fresca aromatica che si sposa bene anche con tutti i piatti estivi un pochino anche con tutte le le verdure che si possono fare durante l'estate per cui aiuta molto se non siete vegetariani e cucinate comunque mangiate carne una ramoscella di rosmarino aiuta normalmente veniva messo molto anche nel medievo per questo motivo per cui è una tradizione storica che si rimanda da tantissimo il rosmarino aiuta tantissimo è una pianta appunto magica a livello a livello proprio magico al di tutto quello che abbiamo detto l'ultima cosa che vorrei dire è che secondo tante tradizioni le fate amano il rosmarino veniva utilizzato molto messo appunto ai piedi di totem legati alla natura viene utilizzato molto nell'acqua di san giovanni che è adesso appena passata perché è stata il 24 giugno proprio perché aiuta non solo a conservare di più quello che viene preparato ma proprio perché aiuta proprio la stimolazione di un fuoco interiore per cui c'è l'energia il rosmarino aiuta proprio l'energia vitale per questo secondo me veniva chiamato ruggiato del mare o ramoscello del mare a me piace più pensare che sia stato chiamato ai tempi ruggiato del mare non tanto per i colori dei suoi fiori ma perché aiuta proprio i processi di rigenerazione profondi per cui quando vi sentite stanchi astenici avete problemi di digestione avete problemi di gonfiore si vanno benissimo tutti preparati di erboristeria eccetera eccetera ma se avete lì comunque il rosmarino a portata di mano annusatelo chiedete a lui di aiutarvi a guarire e il rosmarino sicuramente lo farà è stato un post così è la quarta volta che cerco di farlo ho parlato un pochino estemporaneo è davanti a me perché mi piace farli vedere avevo i quattro bigliettini con le cose da dire penso di aver detto tutto e facciamo un check con voi direttamente sugli egistini ho parlato a che a livello dei romani i romani utilizzavano comunque sia rosmarino come offerta per i lari i lari erano le divinità della casa che proteggevano per cui si faceva come offerta rosmarino perché rosmarino a livello di smudge quindi di fumigazioni in casa quindi va bellissimo quello che ho fatto io adesso che l'ho sbriciolato metterlo un pochino sul su un carboncino per fare delle fumigazioni aiuta proprio ad allontanare le negatività come dicevamo prima il rosmarino risveglia il fuoco per cui allontana tutto quello che porta sfiga usatemi i termini tutto quello che pensate che sia negativo il rosmarino lo alzera funziona allo stesso modo della salvia bianca per chi non vuole utilizzare piante che non siano della nostra tradizione europea perché ultimamente sta capitando questo chi non vuole utilizzare piante che non siano della tradizione europea e vuole rimanere solamente sulle piante della tradizione locale il rosmarino è perfetto ha esattamente la stessa funzione della salvia bianca un'altra cosa che non ho detto allora va bene qui ho detto tutto rosmeris rugiada l'ho detto che era legato al culto di isoroastro l'ho detto ah un'altra cosa che non ho detto che stimola la memoria l'ho detto che il rosmarino è anche un cardiotonico per cui aiuta tantissimo alle persone che si sentono letteralmente affaticate per cui chi è stanco in generale quindi va proprio a ristimolare la circolazione sanguigna e il il cuore ultima cosa e questo è importantissimo e sono dimenticata di dirlo a livello fisico il rosmarino stimola tantissimo la ricrescita dei capelli quindi il cuore capelluto è una crescita più rigogliosa una ricettina che potete fare a casa come impacco per i capelli prima di fare uno shampoo è base olio di ricino 7-8 gocce di olio essenziale di rosmarino io ci metterei anche qualche gocce di olio essenziale di lang ylang e poi qui sotto lascerò il post ma è un olio essenziale che aiuta tantissimo a livello di psiche ma anche proprio per favorire la ricrescita rigogliosa dei capelli e magari un pochino di olio di germe di grano che trovate oppure in olio oppure in perle che potete pulare e mettere all'interno quindi ricino rosmarino ylang ylang e olio di germe di grano per favorire la ricrescita migliore dei capelli anche l'olio essenziale di rosmarino singolo due o tre gocce prese sulla mano applicate direttamente e massaggiate sui capelli sul cuoio capelluto aiutano tantissimo perché aiuta proprio la ristimolazione la ricrescita del cuoio del bulbo scusatemi capillare per cui va benissimo anche in caso di alopecia alopecia da stress per quanto riguarda le donne alopecia magari maschile anche per quanto riguarda la barba va benissimo se create un olio magari con jojoba oppure ricino che sarebbe l'ideale e qualche goccia di olio essenziale di rosmarino come dicevo prima visto che è un olio essenziale maggiore occhio sempre fate sempre una prova magari sulla sulla pelle ultima cosa il rosmarino tende ad alzare un pochino la pressione per cui solo occhio alle persone che soffrono di pressione alta di non abusarne o comunque di non metterlo diretto puro sulle zone più calde della pelle perché sono le zone diciamo dove c'è una circolazione sanguigna un pochino più forte e quindi rischia di andare in circolo prima nel sangue e quindi può dare qualche problematica ultima cosa perché poi dopo me ne vengono in mente centomila il rosmarino stimola la circolazione sanguigna per cui va benissimo anche nelle creme e nei trattamenti o negli oli che vi preparate a casa per quanto riguarda appunto le gambe per stimolare la circolazione sanguigna solo occhio appunto se avete problemi di capillari e ancora di più se avete problemi di vene varicose in quel caso non va utilizzato perché va ad allargare appunto i capillari stimolando il fuoco per cui a discorso di logica uno ce l'arriva ovviamente quindi se uno ha delle vene varicose o dei capillari significa che in quel caso lì ha delle zone comunque più delicate dove c'è un eccesso di fuoco perché c'è un eccesso di dilatazione in quel caso il rosmarino non va bene andrebbe meglio cipresso e qui sotto qua lo trovate tutti i link 26 minuti di video è stato un video un po' confusionario teoricamente il rosmarino mi ha aiutato è la quarta volta che provo a fare questo video e lo posto così com'è e boom buona serata a tutti e se vi è piaciuto il video mettete un like sotto e condividetelo se non vi è piaciuto lì il video sia che i climenti perché non è mai facile parlare in pubblico è come parlare in pubblico anche se uno fa un video perché lo fai così preparandolo come senza preparare diciamo senza tagli e niente viva il rosmarino quando avete bisogno di sentirvi su quando siete stanchi quando comunque avete bisogno di trovare un senso un pochino più profondo quando sentite che siete stanchi ma avete veramente voglia di proprio di dirla quella cosa che vi deve vi esce da fuori ma avete paura di dirla perché magari non avete paura di non usare le parole giuste in questo caso qualche giorno prima perché vi aiuta prima il rosmarino vi può aiutare perché vi ricentra in voi stessi vi chiarisce la mente facilita la memoria per cui poi quando arriverete al colloquio o al discorso che dovete fare ci arriverete diciamo un attimo più ricentrati e con un fuoco interiore un pochino più sviluppato e questo vi aiuterà a dire appunto le cose in modo più più chiaro ma anche in modo più paralossalmente diplomatico perché il rosmarino appunto avendo un eccesso avendo molto fuoco va un attimino a calmare quelli che sono gli eccessi di vata che secondo la Yurveda sono gli eccessi della mente gli eccessi di aria quando uno vuole dire tante cose ma non riesce a dirle o comunque le dice in modo sbagliato proprio perché non riesce a recentrarsi ecco il rosmarino aiuta in questo caso il fuoco è proprio il fuoco primordiale che ci riporta nel centro di noi stessi buona serata a tutti